Farmavalle, ovvero ridisegno della logistica farmaceutica in Toscana, in partnership con la Regione Toscana, ma anche con altre aziende farmaceutiche. Noi abbiamo recentemente seglato un protocollo di intesa con la Regione, il Comune di Firenze, Toscana Life Science per studiare la possibile realizzazione di un nuovo progetto, un nuovo progetto industriale ambizioso che crediamo che possa creare per esaote nuove opportunità di business, ma sul territorio ricadute occupazionali importanti. Nel nostro settore la ricerca all'avanguardia non si può essere soli, uno deve far parte di un cluster, di un ecosistema dove ci sono altri che fanno cose simili e che ti aiutano a essere innovativo.